nome io ero proprio uno di quelli che reputava one piece un manga molto più complesso e semplice shonen da shonen jump ma dopo il 1044 mi sono dovuto ricredere e sono tanto deluso vabbè parliamo del 1045 di one piece parliamo del 1045 ma non è un rito satanico questo assolutamente non è un rito satanico questo allora parliamo del 1045 di one piece immediatamente proprio si cambia il titolo della live subito adesso con questo titolo cambiato vedrete arriverà anche sommo buta sommo buta dirà e ora sono tornati tutti quanti a parlare di che vi avevo detto finora non ne hanno più parlato adesso torneranno tutti quanti a parlare di one piece ma io sono quello che ne ha parlato fino a mo non voglio non non volessi mai che finisse one piece non so che cosa deve finire prima se la vita di sommo buta o la vita editoriale di one piece perché se finisce one piece prima della vita di sommo buta mi sa che arriva al punto di non ritorno sommo buta come farà come farà a vivere senza one piece come potrebbe campare senza one piece sommo buta secondo di può vivere senza one piece la live il venerdì sabato e domenica fa uscire un altro lì lunedì ne parla di nuovo martedì esce io per un bel cazzo a me che io parlo troppo di attacco dei giganti mercoledì giovedì o mercoledì si salta giovedì esce già qualche lìx però li mette la scritta là sotto chi mi fa lo spoiler viene bannato e poi se vai nel suo gruppo telegram da lì sopra giovedì sera si figurati e venerdì ne riparla di nuovo quindi alla settimana piena il mio pensiero sul capitolo 1045 di one piece senza mostrare troppo del capitolo senza spoilerare troppo eccetera vediamo soltanto questa cosa qua e al massimo un paio di pagine dopo va bene capitolo 1045 diversa è un capitolo che fa ridere il 1045 è un capitolo gommoso proprio nel vero senso della parola capitolo super comico super divertente da fumetto ok sembra quasi che i giro da si è entrato all'interno del fumetto per creare un discorso con il lettore è entrato all'interno del capitolo per fare strizzatine d'occhio per diventare in una visione meta narrativa è diventato parte stessa del fumetto ed è un capitolo dove succedono tutte cose molto super comiche ragazzi c'è stata un'incomprensione vabbè basta non posso parlare di one piece ho capito basta no è impossibile non posso parlare di questo cazzo di capitolo basta mo lo sfoglio qua zoom quella faccia qua è super divertente super bellino allora ecco qua lui sta saltellando boing 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 poi gli finisce in bocca a kaido e vabbè questa scena è super divertente ma in generale ricorda proprio la battaglia goku contro piccolo al torneo tenkaichi poi diventa con un pallone fa salire in aria poi succede una cosa veramente assurda da dentro i suoi occhi escono fuori le mani di luffi e si spinge fuori dalla bocca incredibile vola tra le nuvole gongo gigante e diventa gigantesco questo questo è incredibile super divertente poi usa kaido come una corda per saltare piglia il bolo breff in faccia qua corre come un matto siamo proprio un cartone animato ma fra l'altro corre nel vuoto cioè no vola no non sta volando sta correndo nel vuoto su una strada di fuoco che ha creato lui stesso è ben diverso dal volare poi si piglia un cazzottone viene sbattuto con la testa dentro il tetto del palazzo gli escono gli occhi di fuori e secondo me la cosa più interessante da notare sono queste cose qua cioè come anche a kaido gli ha praticamente fatto uscire le mani fuori dagli occhi qui i personaggi hanno gli occhi che escono di fuori come luffi tra l'altro anche personaggi serissimi tipo kid e l'u cioè è incredibile e qua dice sembra uscito da un fumetto sei al limite vero? e guarda qua che cosa succede lui non si è stancato davvero fa parte del combattimento lui che si stanca gli scendono i capelli bianchi tornano neri e lui si allunga il volto e diventa un vecchio guarda che cosa succede sono stanco e kaido boom anche lui vedi fa che cosa? e sta cadendo cioè lui ha cambiato il mood anche di kaido questo è fondamentale questa è una cosa che non avete notato non lo so se Sommo Buddha l'ha notato nella sua infinita paraculagine perché settimana scorsa a caverna di platone ha ragione la retcon è una merda questa settimana ah è tutto giusto amici è tutto bello è tutto giusto è tutto divertente vabbè comunque questa cosa è da notare vabbè tanto caverna fa grammatica del manga non si caga nessuno su youtube questo nuovo format ma apposto così si riprende battaglia si ride si scherza poi piglia una mazzatona e diventa così letteralmente mucca e pollo siamo a livello che i cartoni di cartoon network super divertente ma la cosa più bella vabbè si trasforma è questo gli tira un cazzottone proprio in faccia lo trapassa così gli fa male fisicamente ma non lo uccide ovviamente cioè avrebbe dovuto ucciderlo trapassandolo in questo modo però non è questo che accade è una cosa comica simpatica figura di se muore per questo no ma chiaramente dovrebbe morire prima quando è uscito con le mani dagli occhi esatto cioè doveva succedere di peggio e qui l'uffi che dice divertente vero kaido questa cosa qua è proprio Ichiro Oda che parla con il lettore e dice divertente vero lettore cioè si sta divertendo lui un mondo a fare questa roba qua si vede ed è assolutamente divertente cosa non mi piace però di questa roba allora c'è una cosa che non mi piace di tutto questo perché questa roba qua è super divertente è fantastica ma implica una cosa secondo me negativa quando l'uffi combatteva contro un qualsiasi personaggio sì c'erano i momenti comici i momenti strani ma erano dei momenti fisici legati al suo fisico tipo combatte il corpo si ingigantisce ed è buffo gonfia soltanto il braccio le sue tecniche hanno a che fare con cose di gomma quindi è tutto molto simpatico divertente ma l'uffi è sempre serissimo quando combatte contro un tizio è proprio dritto lì cattivissimo dice cazzo devo spaccare in due e il contrasto delle sue mosse stupidissime fa ridere fa ridere quello ora invece che cosa è successo luffy non è più serio è proprio fuori di testa è oltre è andato oltre qualsiasi limite criterio e regola e le sue mosse sono ancora sempre divertenti non c'è più quel contrasto che secondo me rendeva davvero efficace il suo essere comico perché era comico in quanto serio che faceva però delle tecniche stupide ora è totalmente non voglio dire stupido voglio dire totalmente comico e questa cosa qua non so che effetto possa avere a lungo termine secondo me non secondo me non è bello secondo me no Nicola non sono d'accordo benissimo spiega ma luffy è sempre stato un po' buffo eh ho capito ma no quando combatte contro il boss finale cazzo ma in generale pure quando combatte non è mai sempre buffo così e se fosse niga a prendere il sopravvento della personalità di luffy solo perché ha sparato nome a caso perché non mi ha sparato contro a pedro non me li ricordo tutti Momo Tama Kinemon pedro capiamo è vivo chi lo sa ecco qua è arrivato Sommo Buddha hai visto Sommo Buddha già in chat eccolo qua eccolo qua eccolo qua eccolo qua e anche domani posso smetterlo nel titolo ovviamente perché sta qua scritto in chat perfetto hai visto Sommo Buddha hai fatto il nostro gioco come sempre abbiamo sopportato anche troppo qua stiamo sopportando anche troppo ragazzi qua stiamo sopportando anche troppo poi ripeto è una cosa metanarrativa super divertente ma non lo so non lo so anche perché esattamente come settimana scorsa è una roba che ragazzi fino a mo non si è mai fatto cioè ora Ichiroda usa Luffy per parlare con i lettori cioè se devo vedere One Piece come un semplice fumetto d'avventura tutta questa roba non ha assolutamente senso se devo vedere One Piece come un fumetto della totale sperimentazione è interessante sì è interessante ed è incredibile ma di nuovo devo far finta che tutto quello che è stato fatto prima non sia mai esistito cosa ne pensa che viene ciò che dice Lucci sui frutti del diavolo sì ma quelle frasi che vengono dette lì che loro non sanno bene che cosa potrebbe succedere con più frutti e loro non sanno effettivamente se uno mangiasse più frutti e loro non sanno effettivamente se quei frutti hanno una volontà oppure no cose che sono state hintate da pure da Usop eccetera eccetera però non lo so mi sembra sempre una furbata cioè mi sembrano delle furbate tipo ok non spiego bene delle cose e poi dopo avrò ampio spazio di manovra cioè è questo il problema di One Piece l'ho fatto sempre questa cosa qua non è che l'ho fatta adesso cioè questo è esattamente il motivo per cui ho smesso di leggere One Piece con la retcon di Subway Days che è una retcon cioè non esiste da nessuna parte che questo aveva due fratelli già prima vabbè Sommo Buda sei venuto qui a dire la tua stronzata ma non ha assolutamente alcun valore quello che stai dicendo c'ha valore cioè se lui viene negli altri per fare dire stronzate l'ha detto lui in live appunto perciò non ne teniamo conto deve fare il serio solo sul suo canale per poi rimangiarsi le cose che dice perché altrimenti poi il suo gruppetto di stronzi non gli dà ragione un cazzato bianco Sommo Buda oggi mai rimangiato nulla capiamo capiamo vediamo 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 dobbiamo vedere dobbiamo vedere se si è rimangiato delle cose ma secondo me già con questo capitolo io non ho visto la live che hai fatto ma sono sicuro che già si è rimangiato tutta avrà detto questo capitolo bellissimo torna tutto è tutto perfetto sì 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 sono sicuro 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 ma proprio occhi chiusi non c'ho manco bisogno che vado a vedere la live già le risate in chat mi fanno capire che è vero è così ma tutto a posto ragazzi capito almeno devo ricordarti ogni virgola di un fumetto che dura da 25 anni se no non capisci questa opera complicatissima come se poi servisse perché quello che racconta prima poi lo cancella letteralmente si inventa delle cose a cazzo letteralmente e e a noi deve stare bene vabbè da posto ma io per questo dico sempre non mi ci impegno nemmeno perché One Piece se ti ci impegni sei veramente un cretino non c'è bisogno di impegnarsi perché tanto quello che racconta poi non andrà a fare in culo qualche anno dopo o quello che ti sta raccontando è così vago è così povero che è tutta cultura dell'hype cioè io non vedo che fanno solo questo questa è la critica non a Sommo Buda perché Sommo Buda si rompe pure il cazzo di farlo ma tutti gli altri che lo fanno fanno oggi sono usciti gli spoiler devo parlare degli spoiler oggi sono usciti le due pagine devo parlare delle pagine oggi è uscito il capitolo devo parlare del capitolo in coreano in inglese quello che cazzo è oggi è uscito il capitolo devo parlare del capitolo settimana dopo capitolo tradotto bene parliamo del capitolo tradotto bene e poi si ricomincia cioè why you qualche altro video inutile nel mezzo poi si deve fare il video le sette cose che ha detto Ciro sette anni fa tipo quei video gli parla malissimo dentro più ma si perché la gente lo vede solo questo ma alla fine cioè diventa un nozionismo inutile cioè accumulare informazioni senza motivo perché sono delle informazioni vuote sono delle informazioni che non poggiano basi su niente ma sì cioè è un po' il problema di tutti i manga in realtà siccome non sono scritti davvero dall'inizio allora tutto quello che succede succede sempre a cazzo praticamente avevo appena detto il parinzesso di Somobuda sì ma Somobuda lo fa coscientemente rompendosi pure il cazzo ma vabbè vabbè lui non parla di spoiler no non mi sembra che parli di spoiler no ma l'ho detto prima che si rompe il cazzo di farlo dopo 15 anni fa sempre questo penso che chiunque si rompe il cazzo prima o poi soprattutto quando parli di un manga vuoto tipo One Piece gli sta andato bene adesso dopo 15 anni gli è andato benissimo adesso perché One Piece è diventato un fenomeno di costume se One Piece finiva due anni fa ma nelle ultime quattro settimane no prima nelle ultime quattro settimane gli è andata stupendamente a Somobuda perché ha avuto double chance stava in front page ed è uscito il power up nuovo di Luffy guarda Somobuda quel giorno ha pregato la madonna veramente è scesa la luce divina dal cielo ha detto tutta questa fortuna che ha avuto questo mese la cacherà tutta quanta il mese prossimo vai al comico sì ma per forza perché fino al mondo non è mai successa una cosa del genere ha sempre fatto grandi numeri con One Piece tutti quanti fanno grandi numeri con One Piece la cosa più famosa del mondo grazie al cazzo pure io domani se mi metto faccio un bel video dove dico tutte le cose sbagliate faccio un milione di visualizzazioni tutti cattivi però tutti dislike sotto ovviamente ma questo mi sembra normale ma non è mai arrivato a questo livello perché c'è stata questa enorme rivelazione rivelazione che poi rivelazione in realtà è proprio un scusate vecchi lettori vi ricordate tutto quello che vi ho detto tu ti sei tatuato il gom gom sul braccio è scritto pure gom gom si sei comprato la statua del frutto gom gom mamma mia proprio uno sputo in faccia a tutti uno sputo in faccia alla community e voi applaudite ragazzi siete il miglior fandom che esista siete il miglior fandom che esiste che vi bevete qualsiasi cosa siete veramente il numero uno peccato che avete puntato sul cavallo sbagliato su cavernary wind sotto ci rivediamo tra una settimana e io adesso sto diventando come loro perché faccio il video su one piece la live viene ricaricata va su freebooter e poi io mi metto a commentare quelli che commentano i freebooter ormai io devo smetterla di leggere one piece basta 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 mi sto rendendo conto di stare diventando come lo perché è impossibile non finire in questo circolo vizioso proprio impossibile ma guarda che è facilissimo rompersi il cazzo quando devi leggere queste cacate poi no ma dico di nuovo fumetto divertente senza soluzione di continuità succedono le cose molto random a volte anche con una brutta scansione temporale però divertente cioè di nuovo torna la definizione che io ho utilizzato per one piece one piece non è più un manga one piece è la tavola dominicale dei fumetti americani d'avventura che usciva sul giornale succedono delle cose pure di topolino succedono delle cose che non hanno minimamente senso e valore che non sono mai successe e che mai più ritorneranno con quel pezzettino così di macro trama che deve portare avanti per il resto il fumetto che puoi pure prendere è buttare tranquillamente ed è tutto così da anni no da mo così da anni cioè ha perso tutto quello che era che rendeva one piece tale cioè prima erano delle saghe dove c'erano un po' di cose interessanti ma lui doveva costruire la saga doveva funzionare bene quella saga invece adesso sono cioè percepisco eventi che devono portarti verso non lo so nemmeno io qual è l'obiettivo non lo percepisco più l'obiettivo però sono tutte cose estremamente concatenate forse questo riflette il fatto che almeno da Ennis Lobby almeno da lì ha ridefinito tutto ha proprio ripensato a tutto e le saghe che ha fatto prima sono ormai diventate semplicemente un calderone da cui andare a prendere delle cose che non ha ampliato per bene e un po' alla volta poi le riutilizza per fare questa nuova storia questo nuovo one piece comunque meglio di Dragon Ball ma è meglio di Dragon Ball per forza Dragon Ball è veramente fuori di testa un reboot mascherato ma manco mascherato palesemente palesemente a quando arrivi al punto che quello fa ci sono due fratelli già mi è rotto il cazzo e la questione di orso che li sbatte in diverse isole e poi loro tornano dopo due anni totalmente diversi ragazzi non è un time skip letteralmente ha fatto un altro fumetto mi serve una scusa per fare un altro fumetto punto tutto qua è one piece ma non è one piece tutto qua poi se uno riesce ad accettarlo bene purtroppo video di tante persone devono vivere con i paraocchi altrimenti sentirebbero di aver sprecato la loro esistenza buttando tanti soldi comprando un fumetto per vent'anni rendendosi conto che è una stronzata penso che fa male a tutti brucia un po' il culo quando ti accorgi che hai comprato 101 volumi di stronzate e quindi non lo si può dire apertamente ma che male c'è io ci ho tatuato addosso Dragon Ball il manga del vuoto il manga del non racconto un cazzo ma che problema c'è ma sono manga scemi ma accettatelo e basta dite sì ho un manga di merda per bambini mi fa ridere e mi piace perché mi piace la merda ma che ci vuole ad essere onesti anni e anni passati a sentirsi superiori io leggo One Piece il manga dei record verrà ricordato come quello venduto più di tutti e nient'altro perché è un manga come tutti gli altri uguale fa le stesse cose degli altri a volte anche peggio perché poi c'è questa parvenza di tutto preparato tutto fatto ma che peggio 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 vabbè basta parlare di One Piece basta ciao 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 Al prossimo episodio